Anche la TS della Montagna risponde all'invito della regione di richiamare sempre su base volontaria alla vaccinazione gli insegnanti che ancora mancano all'appello della campagna vaccinale. L'obiettivo è arrivare preparati alla ripartenza dell'anno scolastico con una percentuale di vaccinati tra il personale docente e non docente tale da consentire la ripresa della scuola in presenza e in sicurezza per tutti coloro che staranno a contatto con i ragazzi che rappresentano una categoria ancora lontana dall'essere vaccinata in massa. Per questo la TS della Montagna ha organizzato dal 17 al 21 luglio 5 giornate per somministrare in collaborazione con la SST di Valle Camonica vaccini Moderna a tutto il personale scolastico, docente e non docente, non risultato positivo al Covid oppure già guarito da almeno 3 mesi, in questo caso fa fede la data del tampone di guarigione, e che non ha già una prenotazione effettuata tramite il portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Coloro che intendono farlo ora possono prenotarsi chiamando il centro vaccinale per la Valle Camonica, il numero di riferimento è il 333-4928-371, attivo da giovedì 15 a mercoledì 21 luglio dalle 9 alle 17. Dal 17 al 21 luglio, quindi presso l'Hub di Boario, verranno messe a disposizione alcune decine di dosi, mentre il richiamo sarà effettuato 40 giorni dopo la somministrazione della prima dose.